Ciao Daniele, ben arrivato lo YouTube Pulse. Grazie, grazie. Allora, io approfitto della tua presenza per chiederti una cosa che vi stavo domandando da un po' di tempo, che è ovviamente il tema è il make-up, visto che è il tema per cui tu sei così tanto famoso e sei così bravo, che sembra essere un trend inesauribile su YouTube. La mia curiosità è, come è cambiato questo trend da quando tu te ne occupi e da quando pubblichi su YouTube ad oggi? Allora, io ho iniziato a fare video nel 2011 e devo dire che è cambiato tantissimo il settore del make-up. Mi ricordo che quando ho iniziato la gente non era così preparata, non conosceva così bene il mondo del make-up, quindi i miei video dovevano essere molto più tecnici, quindi raccontavo tantissimo i metodi di applicazione, come applicare il fondotinta, come scegliere il colore giusto, quali sono i colori che stanno meglio per le varie carnagioni, per i vari colori di pelle e di capelli, eccetera. Mentre oggi la gente conosce molto di più il make-up, ci sono un sacco di persone super addicte ed appassionate e quindi le aspettative sono anche aumentate, no? E quindi si va alla ricerca di cose particolari, più creative, quindi ci sono tutti questi trend fortissimi come il contouring, l'highlighting, lo strobing, tutte queste tecniche particolari, quindi ogni volta diciamo che oggi i video YouTube make-up sono molto più ispirazionali. Io faccio video che tendono ad ispirare la gente per i vari contesti, non so, un trucco per una cerimonia, un trucco ispirato a una celebrities, perché le persone conoscono molto meglio e di conseguenza riescono ad interpretare bene quelle che sono le nostre proposte. Sai che mentre ti sentivo parlare ho pensato che effettivamente anche da utente si vive questa cosa e soprattutto che effettivamente grazie a voi Make-up Artists su YouTube e ai tutti i vostri tutorial ci avete reso un pochino più belle. Oh bene, sono molto molto contento, veramente. Grazie, grazie mille. Grazie.